Buongiorno, sono Diaia Forte, l'anno scorso sono stata in giuria all'Ortigia Film Festival. Sono rimasta veramente sorpresa dalla partecipazione della gente, dal rapporto che l'organizzazione del Festival aveva con il territorio e trovo straordinario che il Festival dia la possibilità a dei film, delle opere prime e seconde che spesso in questo momento in Italia hanno difficoltà ad avere una restituzione e una visibilità. E che appunto un festival come l'Ortigia Film Festival riesca a dare spazio a questi nuovi gizi e a queste nuove opere. Per cui chiedo fortemente di sostenere questo festival perché è una manifestazione di cultura e di civiltà necessaria nel nostro paese. E perché ho conosciuto le persone che lo organizzano e sono talmente piene di passione e di motivazioni che sarebbe veramente uno spreco e un peccato che questa organizzazione non fosse sostenuta dalle forze locali e italiane. Vi saluto e spero di ritrovarci all'Ortigia Film Festival. Grazie.